Un album fotografico. Qualcosa che ci sembrabbe del tutto estraneo al concetto di valutazione che stiamo esplorando in questo video. In realtà è uno dei suggerimenti che ci vengono da degli esperti molto interessanti, che sono Tomlinson e McTighe, che ci suggeriscono che la valutazione, per essere efficace, dovrebbe in primo luogo essere più simile a un album fotografico che non a un'istantanea. In che senso dovrebbe essere simile a un album fotografico? Nel senso che dovrebbe aiutarmi ad andare a fotografare, cioè ad intercettare, le prestazioni di uno studente in vari momenti del percorso e con varie modalità. Sempre Tomlinson e McTighe ci mettono in evidenza che, quindi, i momenti di valutazione devono essere progettati in funzione degli obiettivi del percorso e anche la forma stessa delle valutazioni dovrebbe essere perfettamente coerente rispetto a questi obiettivi e quindi alla funzione della valutazione. Una considerazione particolare quando parliamo di valutazioni di elaborati composti in gruppo. Naturalmente, il momento della presentazione collettiva è importantissimo, perché è il momento in cui il gruppo nel suo complesso valorizza il lavoro svolto. Questo potrebbe, però, essere integrata da altri tipi di valutazioni, per esempio delle autovalutazioni, delle valutazioni tra pari all'interno del gruppo o delle valutazioni tra pari incrociando i vari gruppi tra loro. Grazie a questi spunti che ci vengono da Tomlinson e McTighe abbiamo già incominciato ad introdurre gli elementi chiave della progettazione di un intervento di valutazione. Abbiamo parlato di obiettivi della valutazione, abbiamo parlato di forma della valutazione, quindi il test, e abbiamo incominciato ad accennare all'importanza dei criteri per la valutazione di questi test e, infine, all'utilità della costruzione di feedback appropriati. Andiamo adesso ad esplorare tutti questi quattro elementi uno ad uno. Che obiettivi può avere la valutazione? Abbiamo già visto che la valutazione può avere principalmente un obiettivo di tipo sommativo alla fine di un percorso o quello, invece, formativo lungo il percorso, quindi quello di fornire feedback agli studenti e al docente stesso rispetto all'andamento del processo di apprendimento e insegnamento. Ci sono anche, però, degli obiettivi specifici della valutazione, nel senso che poi ho l'obiettivo, di andare a verificare degli specifici risultati d'apprendimento attesi. A fronte di questo, dovrò andare a scegliere la migliore forma possibile di test. Test è una parola latina che fa riferimento, in generale, a tutti gli oggetti che ci servono per misurare qualcosa, in particolare deriva da un termine che identificava l'oggetto che gli alchimisti utilizzavano per andare a verificare qual era la quantità di oro presente in una lega metallica. Quindi, quando parliamo di test, parliamo di tutte le tipologie di prove che permettono di andare a verificare degli obiettivi. Una volta che io ho utilizzato una prova, dovrò, naturalmente, valutarla. E, per valutarla, ho bisogno di aver identificato dei criteri. E, infine, dovrò fornire un feedback a chi ha sostenuto la prova. E il valore del feedback e il modo in cui io lo costruisco è essenziale perché il processo di valutazione abbia un ruolo positivo nel processo di insegnamento e apprendimento. Quando avviamo la progettazione di un intervento di valutazione, la prima cosa di cui dobbiamo tenere conto è, quindi, che il nostro intervento valutativo sia coerente rispetto agli obiettivi generali e specifici che ci proponiamo. La prima coerenza da andare a cercare è con i risultati di apprendimento attesi che vogliamo andare a valutare. Qua abbiamo un esempio di risultato di apprendimento atteso. Lo studente sarà in grado di riconoscere, a partire dall'analisi di planimetrie e immagini fotografiche, gli edifici religiosi e civili di epoca romanica realizzati nel territorio italiano. Allora, se il mio obiettivo è andare a valutare il raggiungimento di questo risultato d'apprendimento atteso, il test che io propongo ai miei studenti dovrà in primo luogo andare ad attivare l'azione qua descritta, quindi riconoscere. Poi dovrà attivarla rispetto al contenuto che è stato indicato nel risultato d'apprendimento atteso e nel campo d'applicazione che gli corrisponde. Ma qui abbiamo anche un elemento in più. Abbiamo anche proprio il contesto di attivazione della prestazione, di cui devo tenere conto nella progettazione della valutazione, che potrebbe essere quindi organizzata come? Potrei mettere a disposizione degli studenti un certo numero di immagini, di planimetrie e di fotografie relative ad edifici di vari stili realizzati in vari contesti e chiedere loro di riconoscere quelli di tipo romanico realizzati nel territorio italiano e identificarli correttamente. Se invece proponessi loro di descrivere in un testo di loro composizione le caratteristiche chiave degli edifici romanici realizzati nel territorio italiano, andrei a verificare un risultato d'apprendimento atteso un po' diverso, nel senso che chiederei loro di esplicitare le loro conoscenze rispetto a quello stile e in quel contesto, ma non andrei a verificare quel risultato d'apprendimento atteso che prevedeva anche l'abilità di riconoscere le planimetrie e le immagini fotografiche da quelle dedurre il tipo di edificio e il suo contesto. Vedete che è molto facile, rispetto a un determinato argomento, andare ad immaginare un test di valutazione che sia veramente coerente con il risultato d'apprendimento atteso, oppure che si discosti un pochettino, portandoci a misurare qualcosa che per noi magari non era realmente l'obiettivo al quale volevamo che i nostri studenti tendessero. Un altro aspetto importante da monitorare quando progettiamo un momento di valutazione, riguardo la coerenza di questo momento di valutazione con i risultati d'apprendimento attesi, riguarda l'insieme dei risultati d'apprendimento attesi, perché normalmente in un insegnamento io mi trovo di fronte a un sistema più o meno articolato di risultati d'apprendimento che possono avere magari anche un loro ordinamento gerarchico o andare a spaziare rispetto a un'ampiezza disciplinare che può essere veramente anche molto estesa. Normalmente gli aspetti proprio logistici e organizzativi dei momenti in cui gestiamo le prove di valutazione, siano esse sommative o formative, non ci permettono di andare a testare e quindi ad osservare il raggiungimento di tutti i risultati d'apprendimento attesi che noi abbiamo formulato per il nostro insegnamento. Come possiamo fare per orientarci nel modo corretto? La strategia più efficace è quella di andare a selezionare i risultati d'apprendimento attesi da andare a testare, tenendo conto di quelli che risultano più significativi e più importanti rispetto al contesto in cui il nostro studente sta crescendo. Quindi rispetto ai profili formativi in uscita previsti dal corso di studio e anche rispetto alle necessità, in termini di prerequisiti, espresse dagli altri insegnamenti che dovrà seguire nelle tappe successive. Proviamo a ricapitolare gli elementi chiave. Per progettare una valutazione efficace dei risultati d'apprendimento attesi è importante agire in una prospettiva multidimensionale, una prospettiva più da album fotografico che da singola foto. Che cosa significa? Significa cercare di ideare delle strategie per raccogliere informazioni su come e se e quanto i nostri studenti hanno raggiunto i risultati d'apprendimento attesi con varie modalità, se in termini di forma di prova che di modalità di attivazione individuale, di gruppo e così via. L'altro elemento molto importante di oggi è che la valutazione, la strategia di valutazione, deve essere fortemente coerente con i risultati d'apprendimento attesi. Per cui, nel momento in cui io vado a valutare un risultato d'apprendimento atteso, la prova di valutazione deve attivare l'azione che era prevista dal risultato d'apprendimento atteso, ricordate lo studente sarà in grado di, riguardo l'oggetto indicato nel contesto che era stato specificato. Finora abbiamo analizzato questa dimensione relativa alle strategie di valutazione. Nei prossimi video andremo a ragionare sulla forma del test, i criteri della valutazione e la struttura del feedback. Grazie a tutti.